Ciao a tutti amici, stasera proverò a cuocere gli involtini di pesce spada, io li ho comunque comprati così, li li ho fatti portare dal mio pesce vendolo di fiducia, e proverò a cuocerli dentro la frigidrice ad aria. Adesso sto cuocendo delle patatine che sono già pronte, perfetto, questi sono ad accompagnamento al mio piatto e adesso andrò a uscire questi e metterci del sale ovviamente e a mettere dentro i miei involtini. Vedremo come si cuoceranno. Allora ho messo, ho spruzzato un poco di olio in fondo, se non a me serve, adesso andiamo ad adagiare gli involtini, non c'è bisogno di riscaldare perché ovviamente è calda perché in questo caso ho fatto le patatine, però voi riscaldatela sempre se non fate, se non cuocete niente prima degli involtini, almeno fatela riscaldare 5 minuti. Ecco qua. Ho spruzzato ancora dell'olio sopra e adesso lo andrò a mettere dentro la frigidrice. Ecco qua. E cuocerò in funzione pesce per 8 minuti, io metterò 10 minuti e farò magari a 180 gradi. come potete vedere le patatine sono anche perfette, fantastiche, sono anche croccanti. Ecco qua. Direi che sono cotte a superficione e funziona alla grande. Alla prossima.